Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Accademia School Simulator L'avete votato in parecchi affinché questa serie vada avanti Per cui mi sono organizzato, nel senso che ho stravolto un po' il piano iniziale Ricominciando da capo, ho preparato una cosa interessante Adesso andiamo a vederla Allora, carichiamo, ho cancellato tutto quello che c'era del resto E adesso abbiamo questo Allora, io ho fatto il mio personalissimo piano architettonico Da buon architetto mancato, se vogliamo In cui, appunto, ci sono solamente i progetti di quella che sarà la nostra nuova scuola Visto che l'altra era veramente troppo caotica Un sacco di spazi inutili Un sacco di soldi che volavano fuori dalla finestra per troppi costruttori Per cui ho preparato un progetto in cui abbiamo Gli ingressi, 1 e 2 Un corridoio abnorme che adesso vi faccio vedere dove porta Comunque, la clinica, bagno, bagno Stanza computer, la biblioteca Cucina, la stanza dei cosi Dei bidelli Un altro bagno misto questa volta La mensa, il club La sala professori E qua un'altra cosa per i bidelli Ehm, il tutto con classi in perfetto modello cinese Come sempre, come avevamo lasciato l'ultima volta Che sono, che sono qui Poi, nel caso in cui dovessimo fare soldi, eccetera, eccetera Si allargerà tutto, anche alla parte nord, diciamo Con una classe senior Quindi più adulti Con altri bagni, tre Un altro club, un'altra biblioteca E qua poi eventualmente capiremo cos'altro farci Perché appunto ci sono un sacco di spazi Aggiuntivi che si potrebbero anche utilizzare Detto ciò Ehm, facciamo Scusate che sto spostando della roba Bene Allora A questo punto Noi possiamo iniziare a costruire Fermo restando che appunto Ho tenuto molto in considerazione Quello che mi avete detto Per cui ho evitato gli sprechi di spazi inutili Non assumerò 800 uomini a lavorare Ehm Di conseguenza iniziamo la costruzione ufficiale Del, della struttura E direi di partire Vediamo un po' le cose da fare Adesso mi sono spostato in basso Così che si possa leggere tutto Allora Costruisci una classe per Ehm Insomma i più piccoli Ehm Dai un professore alla classe dei più piccoli Costruisci una cucina Ehm Una mensa Ehm Prendi tre cuochi Allora Quindi diciamo che Ehm Di norma Il blocco che ci interessa È questo Poi il resto Lo si farà Quindi Sto facendo i muri Ehm Fino qui Ok Facciamo iniziare il lavoro Poi Qua chiudiamo Così si fa anche tutto il resto Almeno facciamo Una bella scuola di quelle fatte bene Se si riesce Ecco iniziamo il progetto Da questa parte Qua la seconda stanza Bidelli Ce la teniamo Per eventuali Ehm Bisogni Ehm Aggiuntivi in futuro Ma adesso il progetto Non gli diamo Seguito Intanto facciamo Intanto facciamogli fare i muri Velocizziamo un po' Però ci adesso Se no Finiamo all'anno del mai Ehm Per il resto Inizierei a mettere gli oggetti dentro In cucina serve Così Facciamo Un freezer Che è Questo Poi Ehm Un fornello Che potremmo mettere Qua Volendo Sì E Ehm Il famoso Kitchen sink Che Lo mettiamo Lo ruotiamo E lo mettiamo No qua non ce va Ho fatto la cucina Troppo piccola Che bello Allora Fermi tutti Che qua non hanno ancora fatto nulla Allora Kitchen sink Lo mettiamo Qui Ho fatto la cucina Decisamente Troppo piccola Decisamente Troppo piccola Ok Bene Quindi abbiamo Il kitchen sink E poi il frigo Che è qua La porta Dov'è che la volevo mettere Lì Quindi Potremmo fare una cosa Di questo tipo Qua Ci mettiamo La porta E dovremmo stare a posto Giusto? Qua un'altra porta E qua Un'altra porta Con Con gli ingressi Dentro Alla sala Mensa Che ne mettiamo Uno qui Uno qui E uno Qui Penso che possa andare Questa prima parte Sono abbastanza soddisfatto Poi Qua ci mettiamo Un'altra porta Che mi sembra Una cosa buona E giusta Qua ne mettiamo Un'altra Qui ne mettiamo Un'altra E qua Ne mettiamo Un'altra Ma rivolta Verso fuori In più La classe La nostra classe La mettiamo Una E due In maniera tale Che ci siano Anche due ingressi Per la nostra Spendita classe Poi Direi di mettere Il Le cose Della cucina Le cose Del bagno Le piastrelle In bagno Le mettiamo Qua E nella Stanza dei bidelli Adesso Se ci fa Fini Ci mettiamo Che ci mettiamo Cemento No Cemento Classico Ok Così Se Dio vuole Abbiamo finito Poi Facciamo La Dunque In mensa Ci potremmo Mettere Non lo so Il legno Il parquet 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 In cucina In sala Mensa Durerà Tre minuti E mezzo Poi Nella stanza Dove studieranno Ci mettiamo Un po' Di Moquette Nella sala Professori La moquette Sempre E nel club Rimettiamoci Il parquet Che metto Pure qua Per non sapere Leggere E scrivere Bene E a questo punto Credo che le cose Stiano andando Discretamente Bene L'unica cosa È che Mi sono scordato Deve Qua Questo Qua Quest'altro Porca Di quella Miseria Odio La cosa Della Delle porte A sto gioco Vorrei Vorrei che le porte Avessero una sorta Di pavimento Neutro Ad accompagnarle Ma non c'è mai Comunque Allora La cucina È fatta Questo è fatto Ci serve Ecco Magari Nella Nei corridoi Quanti soldi Sto spendendo Quanti soldi Sto spendendo Vabbè La base Devo dire Che è fatta Di norma Ci mancano Gli oggetti Dentro Che è la cosa Più drammatica Del tipo Allora La sala Del bidello Quattro sedie Che ci dovrai mai Fà con tutte Ste sedie Vabbè Kitchen sink È una cosa Fondamentale La mettiamo qua Poi Il tavolo Lo mettiamo Qua Tanto pure Se non c'è poi Andar seduto È uguale No vabbè Dai Mettiamolo Mettiamolo qua Così che Non si Mischino E poi Le famose Quattro sedie Una Due Tre E Che ne so Ne mettiamo Un'altra 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 qua Per far accompagnare Quello che lava i piatti Ecco Poi I bagni Abbiamo Toilet Qui Allora Dobbiamo mettere Un lavandino Che basta E avanza Mi verrebbe da dire Sì Uno E poi serve Il cubicolo Penso Che uno Sia Obiettivamente Un po' Poco Ecco Quindi Anche qui Stiamo messi Discretamente bene Giorno 2 Andato Allora Detto ciò Vedrai che Potremmo partire Con Qui ho fatto Tutto Qui ho fatto Tutto Qui ho fatto Tutto Qui mancano Vabbè Adesso non ci interessa Ecco Cominciamo Con la nostra Classe Il modello cinese Vincerà Allora Una La lavagna Poi mettiamo La La cosa Del professore La sedia Del professore E I banchi Per adesso Dunque 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 10 Così c'è Pronta subito Un'altra fila Qualora dovesse Render Necessaria Per il resto Qua abbiamo fatto Tutto La stanza C'è Io Quello che farei Adesso E mettere Un po' Di Tipo L'orologio In corridoio Sapere Che ore sono Magari Converrebbe Ne mettiamo Ecco Ne mettiamo Uno anche qua Uno anche qui Poi Mettiamo Qui serve Dove sta Dunque Quello per il cibo Lo mettiamo Da che parte Si guarda Questo Di qua Potremmo Metterlo Sotto L'orologio Avrebbe il suo Perché Lo mettiamo qua Vicino Alla stanza Dei Dei Cosi Poi Food Food Counter Plate Counter Questo Lo mettiamo Qua E poi Ci manca Il Canteen Table Bene Mettiamo Uno qua E Un altro Qua Ma a parte Che non mi piace Per niente Dove li ho messi Fermi tutti Non fate Nulla Ne fai Posso Levarlo Non lo posso Levar Niente L'hanno Già Messo Come Non detto Vabbè Allora Mettiamo Pure Questo Fatto Ciò Uno Due Uno E Due Bene Adesso I cestini La cosa Fondamentale Sono I cestini Dove Sono I cestini Eccolo Allora Uno Due Tre E Quattro Così Riempiamo Dei cestini La scuola Che se no Sappiamo bene Che fine fa Qua ne mettiamo Uno qua ne mettiamo Un altro In classe ne mettiamo Uno a ogni angolo Così stiamo tranquilli E credo Fermamente Che ci dovremmo Essere Potremmo anche Essere in grado Di lanciare Forse L'anno scolastico Può essere Quasi Quasi A me ne andiamo Con obiettivi Ben chiari Senza Avere cose Strane Perché sono Di un colore diverso Io odio Il fatto Che siano Di colore diverso Le varie cose Di modelli Diversi Vabbè Allora Bisogna assumere Il cuoco Quanti cuochi Mi servono Tre cuochi Marca miseria Uno Due E tre Bene E adesso Mi serve Un professore Mettiamo Michela Micaela Divine Questo qua Che siamo usciti Da fallout 4.900 euro No Beh a parte Che tanto Costano tutti La stessa cosa Più o meno Sì Prendiamo quello Che è uscito Direttamente Da fallout Peter Green Carissimo Ok E qua Abbiamo fatto Poi Obiettivi Allora Costituisce Una clinica No Ci servono Quattro Bidelli Quattro Bidelli Ne mettiamo Uno Due Tre E quattro Eppure Questo Dovrei Averlo Fatto A questo punto Potremmo anche Lanciare No Qua Tanto Soldi Per noi Grazie Wow Che cosa C'era un'altra cosa Che mi sembrava Di poter fare No Per adesso Sembrerebbe di no Vabbè Io lancerei Così magari Inizierei ad entrare Un po' De soldi Potrebbe essere Il momento adatto Allora Direi che va bene Per adesso La gente Sta lavorando Poi La clinica La clinica Mi è un po' Lontana A dire la verità Potremmo fare Una mini clinica Aggiuntiva Non sarebbe male Una clinica Aggiuntiva Allora Facciamola qua Zona Quattro Per quattro Noi vogliamo Vogliamo strafare Facciamo Sei per quattro Così Così Almeno mi resta Uno spazio Giù Mettiamo Una porta Qui Per la nostra Meravigliosa clinica Facciamo Dei muri Perché Insomma vorrei Muri classici Mettiamo La moquette Al solito E all'interno Della clinica Serve Un medicine cabinet Quindi Le medicine Medicine cabinet Ok E lo mettiamo Qua Poi Letto Lo mettiamo Qua Una sedia La mettiamo Qua E Assumiamo Non appena Avranno finito Una bellissima Infermiera Che possa rendere felici I nostri ragazzi Poi Ah tra l'altro qua Stanno camminando Nel nulla Forse è il caso Forse è il caso di allargare Un po' Il corridoio Ecco Facciamo fino a qui Magari Costa decisamente Un botto Vabbè Per adesso Facciamo fino a qua Muro Qua eventualmente Faremo Una porta Quando sarà Ragazzi La facciamo Sto Sto muretto Che dite Se vi va E anche qui Dovremmo stare Relativamente bene Ragazzi Un po' Un po' Di verve Un po' Di brio Un po' Di convinzione In più No Non andiamo Per priorità Qui dentro Vabbè Sono le nove Di mattina Stanno in classe Sì Loro stanno lavorando Il nostro Professore del vault È contento Anche lui Di mettere E togliere La cera Detto questo Che altre cose Possiamo fare Ecco Allora costruisci una clinica E Assumi Due Due Infermiere Poi Costruisci un club Potremmo iniziare A costruire anche il club Visto che apparentemente È pronto Basta mettere un muro Club Tavolo e sedie Più facile Che così si muore Club Table Ne mettiamo Uno qua E uno qua Quante sedie Servono Quattro Ne mettiamo Mettiamone Uno Due Per quelli che attendono Di essere ammessi E uno e due Poi Qua è fatto Se i nostri operai Finissero Invece di battere La fiacca Intanto Sembra Sembra che tutto Al di là Dei soliti Operai Un po' Un po' Viscidoni Che stanno Nei bagni Non si sa A fare che cosa Perché Bivaccano sempre Nei cessi Questi Che cosa fa Con le mani Questo Vabbè Io non voglio Saperne niente Poi Qua abbiamo La zona Dell'immondizia Per cui Ci sarà Da mettere Qualcosa in più Ci sbrigiamo A fare sta cosa Che ci servono I soldi Per cortesia Operai Ma a parte Ma chi l'ha assunti 12 Ah Perché comprende Anche la Per un attimo Pensavo Che Che i sindacati Avesse in qualche modo Messo il loro zampino Nella nostra Con tutte queste Assunzioni Farlocche Allora Andiamo Andiamo Mettiamo Due Due Infermiere Allora Qua ci mettiamo La moquette Che ovviamente Verrà fuori Di un altro Colore Perché La sto mettendo In un momento In cui non andava Messa Intanto Prendiamoci I fondi statali Per aver fatto Per aver fatto La clinica Bene Grazie Adesso abbiamo Costruito Quest'altro Che è il club Già fatto Grazie Adesso ci serve La stanza Dei computer E la Biblioteca Bagni Espansione A 50 E Bella tosta Mi si sta Facendo Facendo un po' Tosta Qua situazione Allora Io odio La moquette Bicolore Sto diventando Pazzo Se mi fanno Vedere la moquette Bicolore Un'altra volta Mi do fuoco Non so Non so come uscirne Poi da questa Da quest'incubo Della moquette Bicolore Vabbè Direi che la scuola Si sta espandendo Per cui potremmo Anche aprirci A questo A questo luogo Qui Intanto mettiamo Le porte E Qui mettiamo Un'altra Qui mettiamo Un'altra Poi Dunque 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 La porta c'è Ma sì Ma Ampliamo I nostri orizzonti Anche di qua Pure di qua Dunque È un gioco Che se non Te fai i progetti Prima Muori Veramente male Qua Niente Mi ha Mi ha levato Le porte Mettendo i muri Io pensavo Che fosse Un po' Più intelligente Di così Porta 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 E porta Ok Poi Computer Lab Allora Computer Lab La moquette Immancabile Mocuette La moquette Poi Nella Nella biblioteca Ariandiamo Di moquette Pure qua Bene Allora La moquette Ce l'abbiamo In ogni dove Sembra Una scuola Di stampo inglese Poi Andiamo Di Pavimento Classico Pavimento Classico E Fino Fino Qua Dillineiamo Altri muri Sto finendo I soldi Mi sa Sì Vabbè Per adesso Diciamo Che va bene La stanza Computer Sarà quella Un po' Più costosa Ma Niente C'è il professore Che spiega Da solo È finito Con una sorta Di loop Temporale Depressivo In cui Continua a spiegare 24 ore al giorno Anche se in classe Non c'è nessuno Perché lo stai facendo Uomo del vault Del vault 88 Tra l'altro Non mi ricordo Qual era in fallout 4 Il vault 88 Ma il nome Il nome mi Mi richiama La mente qualcosa Di terribile Non so per quale motivo Allora Detto ciò Abbiamo un professore solo Forse sarebbe il caso di Facciamo la faculty room Allora Oggetti Faculty Serve l'office table Che è la cosa Dei professori Intanto facciamo L'archivio Qua Ne mettiamo Un paio Perché la scuola Sarà grande Poi qua Mettiamo Mettiamo Uno Due No Devo metterne un altro Ho veramente Rosicato E a questo punto Da qua mettiamo Le sedie Per i ragazzi Che si comportano male Bene Qui c'è una sedia Qui c'è una sedia E direi che basta No? Fai il cambio La tua fissima Se c'è Bene Quindi quella è fatta La computer lab Di qua Che se non metti Le cose giuste Ti si Violentano Qua dentro Uno Due Tre Quattro Cinque Con relative sedie Fa abbastanza schifo Per adesso La nostra computer lab Ma Che tocca Fa Diventerà grande E piena Di computer Affinché i nostri Ragazzi Possano studiare E diventare Ottimi membri Della società Allora A questo punto Classroom Io aumenterei Di altri Dieci elementi In questa classe Uno Due Tre Quattro Così Il nostro amico del volta Magari C'ha qualcosa da fare Se mi arrivassi con Quattro lire Sarebbe forse il caso Di Di aumentare Un po' I soldi Spero che lo stato Intervenga Il glorioso Stato cinese Deve intervenire Per sostenerci Allora Altro giorno Passato Faccio la libreria Dov'è? Dov'è? Library Eccola Qua serve Bookshelf Quindi i libri Ne mettiamo Una per adesso Perché siamo Una scuola Povera Un tavolo Dove si possa Studiare Questi li mettiamo Per così Così ce ne entrano Di più Ecco Eeeh Sì Più o meno E poi Tre sedie Beh le sedie Le metterei ai tavoli No? Mi pare Una buona idea Credo Eeeh Poi Ci mettiamo Scusate ma Il coso per Dove stanno I cestini? Che sennò Si insozza tutto Dov'è la roba? I cestini Ho perso i cestini Dove cazzo L'hanno messo i cestini? Oh Eccolo Che sennò qua Finisce in tragedia Qua ne mettiamo Mettiamo altri Cosi Ecco Sennò Sozzi come siete Eeeh Qua finisce Veramente in caciara Sennò Eeeh Per il resto Credo che stiamo messi Abbastanza bene Qua potremmo fare Gli armadietti La zona armadietti Si Stile scuola americana Proprio Vabbè la scuola è sporca Eeeh Amico mio Ma io che devo fa? Io domani c'ho Allora Eeeh Qua abbiamo fatto Quindi dateci Sti 5000 dollari Grande Qua Toilet training Ci mancano Ecco ci mancano Le Eeeh I bagni Quelli fatti bene Con uomo e donna Io a questo punto direi Che potremmo Prenderci Dieci studenti Aggiuntivi Così ci danno Un bel po' De soldi Tanto lo spazio C'è Lo spazio Ce l'abbiamo Eeeh Per adesso Stiamo messi bene No Dieci nuovi studenti In arrivo Io direi Che potrebbe Potrebbe funzionare Siete pochi Ragazzi C'ho tutte queste sedie Che si dovrebbero occupare In altri modi C'è un club In cui parlano Di panini Qui c'è una Biblioteca In cui parlano Di panini Una stanza Di computer In cui parlano Di panini Ma tutti A parlare Di panini Stanno qua C'è qualcosa Che non quadra C'è veramente Qualcosa Di oscuro E perverso In questa squadra In cui tutti parlano Di hamburger Continuamente Senza che ce ne sia Una ragione Eeeh Credo che forse Potrebbe essere Il caso Di costruire i bagni La prossima volta Perché Voglio vedere Giusto Se arrivano Questi studenti Aggiuntivi Oggi Io ho aperto Le porte Della nostra Falco School A dieci persone Nuove Ma Per adesso Non li vedo Arrivare Vabbè Intanto sono arrivati Vari lavoratori Sono le sette Di mattina Arrivano tutti Arrivano tutti Ma sono sempre dieci C'è qualcosa Che non quadra Tutti al club Affanze Sa bene Che cosa Eeeh Vabbè Ragazzi Io direi che Per adesso Potremmo anche Fermarci Questa Adesso la scuola Sta prendendo Una buona forma Eeeh Per cui Credo che Adesso saremo Instalarati Verso qualcosa Di meraviglioso Per cui Ragazzi Niente Io direi che Per adesso Ci fermiamo Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di quello Che avete visto Oggi Fatemi sapere Se avete dritte Consigli O considerazioni Da fare Riguardo a ciò Che potremmo fare Domani O mai insomma Domani Inteso come La prossima volta Eeeh E non ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi